Ah, sei live? Ah, c'è tipo Mainagioia, non so se lo conoscete, lo streamer. No. Che ha fatto un nuovo account che si chiama getchirl e l'hanno onorato. Invece che dirgli su. Ah, Luciano adesso. No, boh, sto trindando, non è divertente. Non è un ballatulizzo. Ah, 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 il dashboard d'autore. No! Ti vogliono piccare Swain? No. Bastardi. No, ti ha piccato Swain? Che palle Swain support. No, ah, ah, ah. Cassio top for the win. Ah, 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 ah. Ok. Se cosa può andare o molto bene o molto male. Oh, damn. Dai, raga, giochiamo per divertirci su. Eh. Karma di... Io l'ho fatto. Abbiamo vinto. Mi sforto una P e le E spaccano i culi. Matti. Io gioco a me FAP da... Tu mi hai supportato con Karma di Cia, ti ricordo, abbiamo vinto. Con cosa ti stavo supportando, sciacqua? No, avevi... Non mi ricordo che cazzo avevi. Vado a vederlo adesso. Ma come vai a vedere? No, non mi ricordo assolutamente cosa avevi. Ah, a cambiare scenina! Ah, a v... Avevi Asche. Avevo? Asche. Asche. Quando hai trovato il meme di Ale. Però non è capace di fare il mio meme. Eh, in realtà abbiamo mega vinto. Non per merito suo. Beh. In realtà abbiamo fatto mica... No, perché l'ho deciso io. Ah, ok. Detto che non è capace, non è capace. Fine. Peccato, è stato molto bello trovarsi contro, però comunque. Sì. Soprattutto... Controvino. Buon, ci trasferiamo noi. Ciao. 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 A partire da 5 contro 5, io piccavo Alcario. Contro Bianchi, mi mettevo in un angolo. In vista, eh. Se lui mi vedeva sempre. Però io non partivo mai. L'ansia. Il cavallo di merda. Il cavallo di merda. Oh, Gabbo. Matti non è piaciuto tanto a Jungle Speed ieri. No. Come? A Matti non è piaciuto tanto a Jungle Speed ieri sera. No. Cos'è Jungle Speed? Il Totem. Ah, no? No. Proprio no. Non regge bene la pressione. Ma non è tanto quello che io non ho assolutamente coordinazione mente e corpo, quindi... Soprattutto contro Gill, che secondo me tipo lui si sveglia ogni notte alle 2 per fare un po' d'allenamento. Troppo veloce. Ah, no? Comunque Swain è top. Esatto. Il mio corpo diceva... Io c'ho una figura, prendilo! Più o meno. Il ragionamento mio è quello, quindi... Bisogna giocare così. Appena vedi una... In qualsiasi cosa... INGAZZIO! INGAZZIO! ADDOSSO! Esatto. Dai, vinciamo sta partita, va. Vinciamo sta partita. Signore di Twitch, ci dissociamo da qualsiasi... Dall'essente che vince. Esatto. Sì, beh, non c'è pericolo, signore di Twitch. Un saluto a chi vince. Che ci segue sempre. Ah! Fate a chi doveva prendere quella lancia lì. Uno la doveva prendere. Ah! Al volo proprio. Via! In mezzo a cinque. Oh, Dio! Che sbadaccio. Facciamo qualcosa di dialetto. Voi sapete cosa vuol dire stare a badaccio? Ovvero a badaccio? No. In pratica... Quando si boccheggia dal caldo. E quando si toglie la ruggine e la vernice. Lezione di sabbiatura del metallo. Lezione di sabbiatura del metallo. Oh, brain. Topperini. Mid-the-rain. E lirole. Con oddio da... Oggi... Ciao. Sono Gabone. Farò il bugiardo. Sono Gabone. Ciao. Ciao. La pusciamo? Ma sì, pusciamola. Cristo santo, pensavo di averne presi 3. Stop harassing me. And now I harass you. Ciao. Stuck. Stuck. Olli spepperoni. Olli spepperoni. Oh, no. No, not in the back. No, no, not in the back. Non pensavo vincessi. Oddio Bonino. Report Matti. Don't steal my minion. Look at you. hanno usato il fungo quello per la visione nella giungla qui sopra di noi va bene va bene ma c'è troppo mobility per essere gankata adesso c'è nida c'è nida c'è nida matti e corri dall'altra aperta però mai visto quanto ora hello there c'è sebot non c'è Lucian grazie tantissimo ss guarda anche il tribus ah guardato qua non so se me la faccio fino a 1v1 vaffanculo va non c'ho l'ignite non ci arrivo con l'ignite ma non l'avresti ucciso non c'ho l'ignite questo è brutissimo mi mancano pochi soldi per arrivare alla Tiamat pochissimi soldi guarda se ce l'ho che brutto tosse c'è nida ss mid è sempre lì ci sono Otis c'ho l'ulti ss top no cazzo sei serio? ah ecco occhio a magica sono senza mano c'è nida lì c'è nida eh c'è la nida qua nella nostra giungla state attenti è lì da voi eh ha fatto drar eh ero morto io ci sta è sasciato? no non ha flashato sicuro può deve tornare in base non ho l'ulti forse mi arriva c'è anche Chiana no quanto danno mi ha fatto l'ultimo TIC ci voglio mica credere no niente è guardato qua Chiana mi sta cilisando Chiana è qua mi stava cilisando top com'è? te lo dico tra poco cani minion io tra l'altro non conosco Chiana non so neanche capito cosa fanno i suoi skill guardo il tribus matti anzi vengo top ok mi ha preso secondo me un po' tanto in angolo quella spell di Swain viene verso la bot Chiana andiamo via mi guardi il river ma è già ancora lì ancora lì non c'è bisogno di guardare dov'è? adesso ci devi guardare vai 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 si 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 giusto devo guardare tre secondi prima arrivo bot faccio il red e arrivo bot arrivo anch'io con whites pronto? si mi ha silenziato quella merda porca troia mi ha silenziato soraca del cazzo sto arrivando verso il top vieni anche te Otis che li chiudiamo questi qua? si arrivo non c'ho luuti però ah no sono già andati ah niente no 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 disingaggia disingaggia no 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 non volevo mica ingaggiare ma proprio lui oh però si oh che gusto hai anche flashato è lì eh io non posso ingaggiare c'è una word qua attento ss soraca mi hai fatto sprayare la povere adesso attendere ha il blu lei ok ok va bene sono bot c'è neanche chi ha io vado mi uccide ma zio c'è c'è il drago sto arrivando verso il drago io perché sennò ce lo fanno anche questo come ha fatto a prendermelo tio bono non c'ho l'ultimo cavolo morto gg oh bane 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 torno con le scarpe si c'è il mobile c'è da tirar giù quel luce mi sto rompendo le palle eh prima è scappato con veramente poca vita arrivo arrivo qua gg 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 pushiamo torno mid lane anche perché ha sganciato un mero ah sono mil cazzo andate 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 mil perché shaworth dobbiamo prendere qui questo attore meglio caro però beh dio è passato attraverso un muro ok perché ha passato attraverso un muro madonna che danno Kiana che fa porca puttana non ho davvero idea di come funziona quel centro se sei attaccato un muro sei morto sì ma di brutto anche gli ho piazzato un pilastro qua non ci passi tra il pilastro e il muro lei ci è passato è anche grossa 7.2 sì questo non ti autorizza a passare attraverso le pareti anzi sei più grosso esatto solo io posso sfondi le pareti esatto le fanno quadrate apposta perché così ci posso passare io ah c'è qualcuno qua c'è Kiana no non c'è solo Kiana oh boia mi piacerebbe salvarti ma no 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 non c'era solo Kiana solo Kiana forse riuscivo a farlo aspetta ma guardalo guardalo porca troia fa un male quel cazzo di Lucian oh godo no ma senza Soraka non si cura quel porco flash è anche Swain mamma mia quanto fai vomitare ultimo mi vengo top perché ho paura che Kiana ti faccia qualche prova probabilmente adesso mi dai ah infatti dal mio red c'è la tizia vanno alle red secondo me no non riescono a farcene però ma hai già fatto? scappa corri c'è il Nemesis un sacco di merda no come non l'ho presa c'è il Drago che palle beh ecco vado ma è altro ci siamo noi vedete sulla mia riga vai rick 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 erano il Drago scappate dai muri scappate dai muri allora vaffanculo cioè dal mezzo della lane ci ha preso ci può sbattere via nel muro dal mezzo della lane allora non ha senso neanche starci lontano perché o stai lontano da una parte o stai lontano dall'altra ti butta un casino in là quella ulti di merda che Cristo devo provare a pushar da un po' più veloci controllo pushin un po' più veloci controllo cusci anche qua adesso arriva chi ha esatto certo perché diventare invisibile mi sembra oltretutto un minimo più l'utile sorate va bene a dito tu hai un campione con uno skillset abbastanza standard ok però adesso non dico che debba essere competitivo ma in una qualche maniera dovresti poterlo giocare se ti trovi davanti una persona come Akali o Kiana uprandolo cosa fa? cominci a corrermi nella direzione opposta è inutile c'è su in dal Baron no non può fare bello pronti che gridine quattro non c'è una mazza ok che fa male quel Lucian vengo a darti una mano ho provato a prenderla ma no dai hai lì posso anche smeggiare poi basta mettiamoli nella loro giungla se venite qua occhio Lucia indietro arrivo 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 c'è Nidaly gg ok Nidaly sale ragazzi grazie grazie Matti devi morire buon canna di merda va bene dai va bene va bene vai sudirei sudirei no niente niente con l'ultimo ce la faccio non ho capito non so che cosa faccia l'ultimo di di Swain lo cure in base ai danni che fa OE quando la vuole rilasciare lui in un tempo che non mi è molto chiaro ma è abbastanza grande è restato anche Lucia vorrebbe verso il teleport via 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 mi hanno schivato tutto quelle merde sono un coglione un coglione come come un coglione Baron Baron che cazzo io lo parlo adesso no 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 sto non so come fuggire non conosco quel cazzo di campione lì ma anche se lo conosci fuggire è veramente difficile da una chiara ma guarda c'è anche il flash ma pensa te ma c'è anche il flash non c'è veramente e io non c'è neanche provato e se la Soraka da solo io ho ammazzato Soraka si si va bene Iana non so se la prendo e se la prendo mi giuca se non mi giuca mi ammazza lascerò andare lascerò andare arrivo Swain tiehard del cazzo con il champion che sanno giocare dio che non li sopporto in normal io faccio lo stesso posso dire poco si quando shopper un randwin arriva oppure corrover su mardi non c'è anche l'ultima ci muoio via 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 ma porco dio ok silenzi di Soraka madonna santa adesso prendo questa spada vuoi vedere via via Grazie. Vai tu bot, Jill. Sì. Via dal muro, via dal muro, via dal muro, via dal muro. Buono. No, no, l'heal, vai via, vai. Help. Cioè, questa è fatta di dash. Ok, grazie, Matti. Recupero, poi arrivo con la ulti. Muori. Grande, grandi. Ha fatto un dash. No, no, occhio, 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 c'è l'ho. No, via, ragazzi. No, via, via, via. Eh, vabbè. No, non è anche reward. Bah, Dio. Secondo me non ti aveva poi preso. Quella, quella è lì di X-ray, di X-ray, non è proprio, proprio... Tarata benissimo, ecco. Esatto. Madonna, perdon. Eh, bebe, bebe. Temo, temo, temo Baron. Sto correndo in lì. Oghi, c'ha i muri dappertutto, sta qua. Via dal muro, via dal muro. Quale muro? Tutti. Sì, poi è capitato anche il drago della montagna, ovviamente, perché... Com'è? Corri. Runaway, Shoshanna. Questo è un mio cane. Il streaming si dissocia. Diocane. Corri. Com'è? Il pane? Arrivo qua. C'era Lucian Toppio, se l'avevo anch'io. Io parto di ulti, eh. Focussiamo Soraka. Era una citazione di... Di Polo, comunque, di Bastardi senza gloria. Arrivo. Allegorica, tra l'altro. Non possiamo focussare Soraka, però, sì. Dobbiamo fare il bar, secondo me, qua. Eh, ma la pushiamo nella base, oltre? No, c'è Kian, Nidalee, Swank. Possibile. C'è anche il drago. Ecco, il drago sarebbe già un po' meno. Non riusciamo a prenderlo, però. Allora, devo farne questo. Non ci arrivo, se no. Ah, è il momento delay della vita. Se sei in range... Non c'ho neanche a range. Non c'è in range. Eh, poi provo col salto, no. Eh, temo che abbiamo perso. Sì. Perché quella Kiana... Cioè, gli basta l'ulti e probabilmente però Calella su quattro persone. Sì. Pino Chaos, non... No. Possiamo fare un all-in tutti insieme. Ah, conviene. Arrivo, arrivo, arrivo. Arrivi, Gabone? Sì, sono qua, sono qua, arrivo. C'ho il flash, l'ulti. Tutto. Allora, io vado sulla cosa più vicina. Attento che sia luce a Nokiana. Eh, sono al Baron, sono al Baron. Andiamo. Andiamo, eh. Che vi devo dire? 3, 2, 1... Non ci sono... Vabbè? C'è un amor, mi ha completamente focussato tutto. Tutto, tutto. No, vabbè, con l'Elder non c'è storia. Con l'Elder non c'è storia, ragazzi. Era esattamente la nostra migliore possibilità. Sì. Ci dovevamo provare? Vabbè, ci stava, ci stava. Eh, addirittura salgo di livello. �ke, allora. Ciao. 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 Buonanotte, ciao Loro sono in quattro, ok andiamo Ah, parti pure Gabbo Gabbo, parti pure Ah, giusto Chi banniamo? Gli bannono sempre morte Pathetic Un'altra soraka che domarrà Contro Garen Non l'ho mai provato però Volevo imparare a giocare bene lui Non so contro Garen come sia Vabbè proviamo No ancora Lucian che due coglioni Basta Lucian Sivir Lucian sarà in solo lane Ah Oppure Sivir Lucian mid Secondo me contro Garen è meglio Ignite o Teleport Ignite non serve perché tanto alla fine serve in early ma in late ti ne fai poco Sì, infatti teniamo il tipi Come funziona Kled? Kled funziona che praticamente la Q Allora quando C'ha due barre di vita Una è quella della lucertola L'altra è quella sua Quando muore la lucertola Scappa via e lui rimane a piedi E guadagna del movement speed Verso i nemici avversari E per ogni colpo che dà Agli avversari Ai mini Mignone alle torri Recupera la barra della lucertola Ok Quando ritorna la lucertola Ritorna con tutta la vita Quindi È un centino che devi costantemente Treddare Perché con la Q Allora in forma normale Lancia quella tenaglia Che ti tira indietro Se sei nel range giusto Sì, che però se sei in Se sei con il tizio Con la lucertola Sì esatto Se sei senza Ti spaccola il colpo di fucile Di pistola Che a rinculo Ti sbatte indietro Ok Poi la W è uguale sia Da lucertola che senza E si attiva Ogni 15 secondi Credo 10 secondi E praticamente Ti dà 150% di attack speed Il quarto attacco È pompato E la E È quella che Vai verso un avversario Se lo colpisci Lo segui Anche se è fresh Tu lo segui A meno che non vada Di là da un muro Credo Non so scuro E la R È quella che corrono tutti Appena trovi uno Lo targetti Si Io ho capito Che però I silenzi Li subisco molto Cosa? I silenzi Li subisce un sacco Lui Se non puoi Spammare È uno Yordle Giusto? Si Uno Yordle Di Noxus Che non ho idea Della differenza Fra Sai che c'è Demacia Noxus Ok Ah Noxus È cattivo Si Ok Ma Luca Comics Quest'anno Non davano skin Non c'è più League Da due anni Ah ok Come mai? Beh che Ha investito In altro Frisciato Frisciato Garen Perchè Perchè Grazie. 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 ok mascheri ne abbiamo beccato non moriamo però potrebbe fare drago lui può far tranquillamente in solo quando vuole vediamo se scabordarlo no non c'è ok 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 buono c'è il Drago no Kian è troppo basso cioè Kian è lì da red quindi l'ho guardato aspetti un attimo è ora di ingaggiarla adesso Sivir che non ha lo scudo bravo a posto a posto vi ha rotto abbastanza i maroni ho l'ultimo adesso Drake vieni vieni Matti vieni no non è lì zono Gigi buonissima questa azione vado via Matti guarda quanta vita c'ho eh non c'è nessuno beh vabbè c'ho un po' paura di chi Matti arrivano basta un flash e son morto attento non so no non è con noi sto raccaldando allora compriamo questo allora guarda che fa malissimo Kled fa un male boia occhio 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 Matti dov'è dove è Y non è guarda ma sta venendo verso il giù guarda river ce l'ho ce l'ho io in 15 grande grande si verdito lesto vediamo che c'è chi ha occhio Matti vieni via anche se arrivi pzioni vuoi aiutare Nico no ce la fa da sola ce ne va sì direzzi a l'hanno a a a a a a a Ottimo. Cattoria, che male! Grazie a tutti. Poco. Cattoria, che male! Cattoria, che male! Potrebbe arrivare anche la Bottlin, occhio. Ok. C'è comunque Garen proprio uno di quei Champions che non viene giù. Senza difesa e non viene giù. Cattoria, che male! 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 Ciao! Cattoria, che male! 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 Ottimo, ho preso due! Quando mi ha fatto? 787 bello bielo come vi Grazie a tutti. Gigi. Io faccio paura. Beh, non sta andando male per ora. Il fatto che se cazziamo riprendono tutto il vantaggio. Sì. Io faccio paura. Io faccio paura. Non ci credo che arrivasse con uno di vita. Guardalo lì. Bella. Proprio Gigi. Proprio Gigi. Allora, mi è arrivata una capsula di campioni. Open. Scarner. No me lo faccio un cazzo. Disenchant. Mi sa che ragazzi... Basta, sono stanco. Ci sta? Basta. Sì. Perché stanotte sono tornato a te tardi. Mi guarda anch'io cosa... Sword Art Online. Sono tornato a te tardi stanotte. Sono tornato a te le quattro passate. Ciao. Un top. va bene rega allora resti stacco un chiodo eh si ciao ragazzi buonanotte 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 passavo a saluto eh vabbè uno dei due c'è la ponte click allo stondino ciao matti ciao ragazzi ciao matti beh hai detto? si perché sono stoff la notte sono tredda troppo tardi mi aspettavo un po' più di impegno allora fa ancora smelto tutto no grazie